Seguiteci anche su RaiTunes.rai.it Fatevi trasportare dei movimenti della camera che indaga sul foglio nero dove sta disegnando Thomas Berra la camera mossa da Stefania Garibaldi che ci fa da regista e percorre questo mondo in negativo nel bianco sul nero che illustra la nostra playlist Gemma Genazzano adesso No me puedo concentrar Quando estoy contigo En la noche no hay final Baila conmigo Mil caricias, compasione Y un suspiro Este aroma embriagato Que io respiro You can take me away Sei che non posso controllare You can take me away Sei che non ci sono Che non è vero Take me away Take me away You can take me away Sento io che non ci sono Che non mi far Take me away Take me away Buon ascolto su Rai Tunes You can take me away Sei che non ci sono Sei che non ci sono 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 playlist canzone dopo canzone, Paolo invece scrive, puoi chiedere a Thomas il significato delle lettere nei suoi quadri, Thomas vuoi spiegarlo? Allora appunto stavamo dicendo che non hanno tante volte un significato, meglio sono un po' delle presenze, delle parole e mi è appunto venuta in mente una scena del film di Basquiat dove in un'intervista lui gli chiedevano ma perché aggiungi tutte queste lettere, allora lui rispose che era come chiedere a Miles Davis se sapeva quale nota metteva una in fila all'altra o era semplicemente casualità, credo che sia tante volte anche un istinto, un fermare un momento. Giusto, e allora noi per istinto continuiamo con un'altra canzone.